Nome? Luca Cognome? Morelli Età? 34 trattabili Città natale? Vari Lavoro? Barman Classico freestyle? Freestyle Perché? Perché è più bello, molto più bello Nome del locale nel quale lavori? Barlume, American Bar Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto Hobby? Hobby, il mio lavoro Il nome del tuo cocktail Absolute? Absolute Barlume Perché dovresti vincere tu? Perché l'anno scorso ci ho parlato e non ci sono riuscito Almeno questa volta votatemi Almeno tu, mamma Fai un saluto? Ciao, ciao